Siamo con Attilio Sirugo, allenatore in seconda dell'Aula Calcio. Allora Attilio, una partita giocata benissimo dell'Aula nei primi 25 minuti, 2-0 e poi è andata man mano a scemare. Forse anche l'arbitro ci ha messo del suo, se ci puoi dire la tua. Carmelo, intanto devo fare i complimenti a tutti i ragazzi perché penso che abbiano fatto una buonissima partita. L'abbiamo preparata così e l'hanno fatta bene bene. 30 minuti, come dici tu, siamo stati nettamente superiori a una buona squadra, quella è Comiso che punta ai play-off. Poi è normale che dopo mezz'ora loro hanno alzato un po' il baricentro. Non dovevamo trovare, forse non dovevamo subire quel gol del 2-1 a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Poi rimanere in 10 per 40 minuti è dura. Loro ovviamente hanno cercato il tutto per tutto. Gli episodi arbitrali preferisco non commentarli, anche se sicuramente non ci sono andati a favore. Ti ripeto, rimangono i complimenti per la nostra stazione fatta bene, per come l'avamo preparata e quindi ai ragazzi non c'è nulla da dire. Dopo l'espulsione per l'Avola, l'espulsione loro, l'espulsione dell'arbitro anche per l'allenatore in seconda dell'Avola che sei tu, l'allenatore in seconda anche del Comiso, diciamo che la partita l'Avola l'ha tenuta bene in pugno, vinceva 2-1 e non subìva neanche un tiro in porta. Forse è giocato meglio in 10 che in 11 l'Avola. Io dico per la seconda parte della partita, perché come dicevi tu, la prima parte l'ha straddominata l'Avola. Sì, rimanendo in 10 abbiamo dato il pallino del gioco a loro, ci siamo stretti dietro cercando di non subire e per largo tempo siamo riusciti a farlo anche bene subendo poco. Poi ci stanno gli errori individuali e prendere poi gol al novantesimo così è dura, è dura soprattutto perché mi dispiace per i ragazzi che ti ripeto mentalmente hanno subito una brutta botta quando non la meritavano. Per ultima ti volevo chiedere se ti vado a commentare, noi non l'abbiamo capito dalla tribuna la tua espulsione dalla panchina. No, ti ripeto Carmelo, preferisco non parlare degli errori arbitrali, credo che sia stato evidente l'abbaglio che ha avuto il direttore di gara. C'è credo una ripartenza nostra, secondo Giallo per un giocatore del Comiso invece ha dato fallo contro e munizione per noi. Quindi lì ho cercato spiegazioni e mi ha mandato fuori, però ti ripeto preferisco non commentare anche se penso che non siamo stati fortunati oggi per questa direzione di gara, solo questo. Grazie mille Attili. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Siamo con Antonio Carpinteri, terzino sinistro dell'Avola Calcio. Allora Antonio, intanto complimenti per la prestazione sia da parte tua che per la squadra. Avete giocato alla grande, soprattutto i primi minuti. Se ti aspettavi un finale amaro dopo un inizio così importante? Onestamente no, sinceramente anche perché abbiamo lavorato molto ultimamente in allenamento e quindi la prestazione da prima della squadra e poi di ogni singolo componente ci ha aiutato molto soprattutto nella prima parte della gara. Poi purtroppo gli episodi sono andati a condizionarla a nostro sfavore. Ti è piaciuta la direzione arbitrale? Perché come abbiamo detto prima ci sono stati due espulsi, uno per l'Avola, uno per il Comiso, ma anche i due mister sono andati purtroppo prima negli spogliatoi. Purtroppo non mi permetto di giudicare la terna arbitrale anche perché loro possono sbagliare come sbagliamo noi in campo e quindi quello che è stato fatto è fatto. Adesso Antonio mancano sei partiti alla fine del campionato, quindi la salvezza per l'Avola si gioca come è giocato oggi e proprio alla portatissima di mano. Sì, sì, noi dobbiamo continuare appunto a dare il massimo e a non mollare fino alla fine e cercare di far tendere il lato della bilancia verso la nostra parte. Ivan Caldarella, centrale di difesa dell'Avola Calcio. Allora Ivan, grande esperienza, Siracusa, Messina, la tua è in campo, si vede la tua esperienza. Sei un leone. Come fai a mantenere intanto questa grande condizione fisica? No, ma tanto grazie. Comunque il merito è di tutto lo staff dell'Avola che ogni giorno comunque ci mette sempre nelle migliori condizioni possibili di dare il massimo. Per la condizione ringrazio Antonello, Buonaventura, credo che nel suo ruolo sia uno dei più bravi di questa categoria e secondo me anche di categorie più alte perché è veramente bravo. Poi ripeto, la squadra, i compagni e tutto, da quando sono arrivati anche Mr. Monaca, Tilio, sono cambiate un po' di cose e quindi tutti diamo il massimo, ci alleniamo con impegno e quindi penso che quando una persona si allena tutti i giorni per bene, i risultati arrivano, devono arrivare o si spera che arrivano. Ma questo guarda Ivan si vede in campo benissimo. Allora Ivan, diciamo prima una partita che secondo me non si poteva perdere se si rivederà tantissime volte. Come la vedi tu? Se l'arbitro ci ha messo anche qualcosa del suo, purtroppo capita di non essere in forma come capita anche ai calciatori. Eh, però diciamo di solito la cosa più facile da fare è dare comunque la colpa all'arbitro. In questo caso a me diciamo non interessa perché comunque una squadra è un mio pensiero personale. Una squadra che vince 2-0 comunque deve riuscire a stare più attento, a concentrarsi ancora di più. E quindi ripeto, l'arbitro può anche metterci del suo, può capitare in questa partita, può capitare in altre partite, però comunque bisogna stare sempre concentrati e tutto. C'è rammarico, c'è delusione, però andiamo avanti a testa alta. Eravamo anche, abbiamo giocato, se non mi sbaglio, tutto il secondo tempo, forse anche prima, non mi ricordo quando è stato espulso. Secondo tempo, un sacco comunque abbastanza tempo con un giocatore in meno, quindi è stata dura, ci siamo impegnati. Difficile da accettare il risultato perché comunque da 2-0 a 3-2, se uno poi comunque a fine partita ci pensa, tutto quello che è capitato, comunque il risultato finale è quello, da 2-0 a 3-2, quindi siamo dispiaciuti. Ma già pensiamo comunque alla prossima partita. Siamo un gruppo, diciamo, ottimista, ci alleniamo bene, quindi pensiamo già alla prossima. Ivan, questa è una squadra che inizia le partite alla grande, gioca benissimo, durante la partita ha degli sprazi di grande gioco, la squadra è giovane, corre, segna. Manca secondo me qualcosa, un peso specifico per passare dalla zona salvezza alla zona che conta, play-off. Secondo te cosa manca questa squadra per essere una squadra più forte, una piccola corazzata? No, ci stiamo impegnando, diciamo, come dicevo prima, tutti gli allenamenti, tutti i giorni, appunto per fare questo salto, come dice lei, perché è giusto, comunque il mister ci dà molte attenzioni ogni allenamento e quindi dobbiamo cercare di migliorare ovviamente le cose che sono migliorabili, perché io penso che comunque in ogni squadra, anche all'ultima giornata c'è sempre un qualcosa da migliorare, quindi andare a fare un salto avanti già per la giornata successiva, che sia inizio campionato, che sia fine campionato. Il mister, sia Monaca che Attilio, ripeto sempre, stanno lavorando appunto per questo, per migliorare, io penso che comunque già i risultati, abbiamo fatto un salto rispetto all'inizio della stagione, perché comunque, se non mi sbaglio, già abbiamo fatto 14 punti con il mister nuovo, e quindi ogni partita cerchiamo di fare sempre meglio e cercare di accumulare più punti possibili. Tutto qui. Grazie Ivan. Grazie a voi.